Signora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti questa sera all'inizio di questa nuova stagione musicale rettina che inizia con il primo spettacolo della Renzo Youth Music Festival. Questo festival pensato per i ragazzi, per i giovani, delle scuole soprattutto, è inventato qualche anno fa da Giovanni Andrezzano e da mia moglie Marcele Renzi. E' una seconda edizione, quindi ci siamo lasciati il 12 giugno dello scorso anno, in quarta caso ci siamo lasciati per chi c'era con l'orchestra Giovanni Verrettina, ci rivediamo oggi 23 ottobre con l'orchestra Giovanni Verrettina. Su il sipario al Teatro Petrarca di Arezzo per la seconda edizione dell'Arezzo Youth Music Festival, ideato dal violinista Giovanni Andrea Zanon, che sarà a pieno titolo il nuovo direttore artistico per le produzioni musicali della Fondazione Guido d'Arezzo e Marjorie Leiden, presidente di Well Foundation. Un festival ideato proprio per portare la musica classica alla portata dei giovani, come appunto i giovani talenti che si sono esibiti. In questo primo appuntamento l'orchestra giovanile Aretina ed Erika Picciotti, giovanissima e talentuosa violoncellista. I prossimi appuntamenti saranno il 30 di ottobre e il 6 e 14 novembre. I prossimi appuntamenti saranno i giovani talenti che si sono esibiti. I prossimi appuntamenti saranno i giovani talenti che si sono esibiti.